Ci troviamo in Spagna, siamo nel 1485, in una Spagna dove i re cattolici, quindi Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona sono già sposati, hanno vinto una sanguinosissima guerra civile e adesso si stanno riversando contro l'ultimo potentato musulmano della penisola che è a Granada. Quindi siamo in una terra sconvolta ancora da questa guerra civile, una terra dove i protagonisti assoluti sono i cosiddetti Hidalgos, quindi i cavalieri che servono al re contro i musulmani. Interessante perché l'etimologia Hidalgo in spagnolo è Hijo de Algo, quindi figlio di qualcuno, che però indica il fatto che sia figlio di qualcuno conosciuto. Quindi di nobili natali, questo è interessante perché uno dei nostri protagonisti, un certo Francisco Pizzarro, benché fosse Hidalgo, diciamo che il nome di suo padre non era proprio conosciuto, ma ci arriviamo dopo. Siamo nel 1485 in una piccolissima cittadina dell'Extremadura, l'Extremadura è una regione della Spagna recentemente conquistata ai musulmani, ok? E' occupata, diciamo, da una società di frontiera, è una sorta di far west mediterraneo, soldati che hanno prestato le armi al re e che in cambio hanno ottenuto delle terre, ok? Letteralmente è il far west, ragazzi, ok? Quindi si stabiliscono lì dopo aver tolto le terre ai musulmani e fanno una società, diciamo, cavalleresca nel senso più medievale del termine. Ci sono dei feudi, ci sono queste larghe porzioni di territori che vengono assegnate a dei nobili e va avanti così. Nel 1485 in una famiglia, diciamo, di piccola nobiltà, abbastanza benestante, nasce questo pargolo che si chiama Hernando Cortes. Questo pargolo nasce da un soldato che appunto aveva servito il re in Spagna, ma soprattutto in Italia, quindi al seguito delle truppe del Gran Capitan, come dicono, colui che conquistò definitivamente il regno di Napoli per la corona spagnola e che sancì la superiorità militare del terzio, ragazzi, stiamo parlando di questa persona, e da una nobile donna che di cognome faceva Pizarro. Bene, i Pizarro erano una famiglia abbastanza importante della nobiltà castigliana e per l'appunto, e qui abbiamo il link, era parente di un altro personaggio, anche lui militare, un tenente, se noi diciamo, un tenente colonnello, una cosa del genere, che qualche anno prima aveva avuto una relazione, diciamo, un po' piccantina, ecco, con una donna di umilissime origini, da cui era nato questo pargolo, questo pargolo che hanno deciso di chiamare Francisco. Ecco, purtroppo, siccome la situazione era un attimo appunto scottante, il padre di Pizarro, di Francisco, anzi scusate, decide di aspettare di riconoscere il figlio, finché appunto poi in tarda età deciderà di farlo, di legittimare il figlio, comunque lasciandolo a casa sua, a casa della madre, non accettandolo nella famiglia del padre, perché, sai, con la moglie avere il figlio bastardo non è proprio una situazione, poi immaginate le cene di Natale, no, ecco, e quindi si decide di non farlo, e quello lì sarà Francisco Pizarro, cugino di secondo grado del nostro, di Hernán Cortés, ok, quindi immaginatevi i cenoni di famiglia al tavolo, c'erano Hernán Cortés, futuro conquistador del Messico, e Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú, così. In una tavolata molto tranquilla, no, Cortés, Pizarro, una cosa così. Tra l'altro appunto Cortés nasce a Medellín, Pizarro nasce a Trujillo, che sono a 60 km più o meno. Tra l'altro interessante, perché proprio per questo problema, che Francisco Pizarro era un bastardo, dal punto di vista tecnico, cioè il padre non lo voleva riconoscere, Pizarro non saprà mai leggere e scrivere, che, cioè, la madre, poverina, di umili origini, non gli può insegnare a leggere e scrivere, non lo mandano a scuola, tanto meno all'università, per dire, ecco. Noi nei documenti vediamo che lui mette la firma, però non vuol dire che sapesse leggere e scrivere, probabilmente gli avevano insegnato a fare questo disegnino, e lui faceva quello. Dall'altra parte, il nostro, Hernando, tra l'altro c'è un discorso, si dice Hernán Cortés per questioni romantiche, in realtà lui si firma Hernando Cortés o Fernando Cortés, ma poi sul nome ci andiamo dopo, che insomma ci rompiamo già il cazzo con queste robe qua, no? Quindi, Hernando Cortés invece arriva ai 16 anni, i suoi lo mandano a scuola di latino, come si faceva con i piccoli nobili, e il ragazzo, minchia, è portatissimo col latino, lui diventa molto bravo, si applica molto, e insomma ottiene ottimi risultati, tant'è che al pueblo i genitori lo vedono conversare appunto col maestro in latino, è uno che sta poco sui libri, ci dicono, che sta poco sui libri, ma gli basta, gli basta quel poco e impara, no? È un personaggio un po' baciato così dalla genetica, diciamo. Insomma, il padre, che ricordiamo appunto era un militare, purtroppo ha avuto una delusione lavorativa, perché quando era tornato dal servizio al re, insomma non era stato ricompensato molto bene, aveva avuto qualche terra, sì, lì a Medellin, però si aspettava ben altro, quindi delle due carriere previste, diciamo, per i nobili, quella militare e quella ecclesiastica, inizia a indirizzare il figlio per la seconda, insomma, lo fa studiare, nella speranza che entri, diciamo, nella chiesa, e faccia, insomma, e alzi un attimo il nome della famiglia, o immaginatevi Cortes Cardinale, no? In una timeline del passato, c'è Cortes Cardinale a Roma, per dire. Cosa succede? Che requisito, chiaramente, per entrare nella ecclesia di un certo livello, è studiare all'università. Ragazzi, purtroppo, i suoi, come i genitori di adesso, gli dicono, se non vai all'università, non ti prende nessuno al lavoro, eh? Quindi, decidono di mandare il ragazzo, Cortes, a studiare. Questo ragazzo, visto che siamo anche abbastanza facoltosi, dicono la madre e il padre, dove lo mandiamo? Lo mandiamo nella prima università di Spagna, che è Salamanca, tuttora è la migliore università, dicono, sicuramente la più antica, di Spagna. Cosa succede? Succede che fare l'università nel 1485, lui in realtà, l'università la fa alla fine degli anni 90, ok? Non era una cosa da tutti, non solo per questioni monetarie, non solo per questioni intellettuali, perché l'università dell'epoca era imparare a memoria tutto, era solo leggere e imparare a memoria, tutto, quindi non era per tutti, perché non tutti hanno una memoria tale, ma soprattutto, e questa è la mia parte preferita, doveva avere un fegato così, perché gli accoltellamenti, le risse, e gli agguati all'università, erano tutt'altro che rari. io ragazzi, ho lavorato un attimo, questa è una piccola digressione, ho lavorato nell'archivio dell'università di Padova, voi non avete idea di gente che a lezione caccia al coltello e si ammazzano, ok? Regolare, tutto regolare. Io vi dico solo che c'è una tradizione all'università di Padova, c'era, mio Dio, che ci bannano su Twitch, c'era nel 600, che era la festa, una tradizione che era la festa della neve, praticamente, quando a Padova, questa è dal 500 al 600, quando a Padova scendeva la prima neve dell'anno, gli universitari di Padova andavano al ghetto ebraico, di Padova, che già esisteva, con i bastoni, e picchiavano gli ebrei finché non gli davano i soldi per fare la festa, ok? Questa è l'università, signori, non stiamo parlando dell'università pre-68, neanche post-68, è un'università un po' diversa, Cortes, quindi, parte, con un gruppo di amici, che anche loro andranno all'università di Salamanca, perché da Medellin a Salamanca bisogna passare un po' di montagne, e come sapete, come sanno, insomma, no, da Medellin a Salamanca, lui nasce a Medellin, in Spagna, chiaramente, e come sapete, o come si può intuire, i passi di montagna sono ricettacoli di banditi, per ovvi motivi, no? Quindi, alcuni cronisti raccontano che lui le prime, diciamo, azioni eroiche, tra virgolette, le abbia avute proprio qua, quando era sedicenne e stava facendo il tragitto da casa all'università, lui inizia un attimo a imparare un attimo come funziona la fisicità e noi sappiamo che all'università se già prima aveva poca voglia di studiare ma era abbastanza bravo, all'università la voglia di studiare va a zero completamente. Lui viene iscritto dai genitori alla facoltà di diritto, una facoltà che va dai tre ai quattro anni, poi dipende perché c'erano vali curricula, lui dopo due anni dice sai cosa? Mi sono tutti i maroni. L'università non fa per me e neanche la chiesa. Alcuni dicono che appunto proprio perché è stato nell'ambiente universitario che era particolarmente violento si sia reso conto che in realtà a lui piaceva menare le madri. Ecco, ci dicono alcuni cronisti insomma un po' un po' diciamo a destra ecco, ci dicono questa cosa. Il fatto è che lui quando è lì dopo due anni decide di smetterla e decide di intraprendere la carriera militare. Ora qui c'è un grosso problema storiografico perché mentre lui è a Salamanca deve scegliere va bene fare il soldato ma dove? E ci sono due carriere possibili. La prima che è quella che aveva fatto suo padre e anche il padre di Francisco Pizarro è andare in Italia lì ti arruoli sotto l'esilio del gran capitano e in Italia c'è da menare per altri quattro secoli e lì sicuramente sarai sotto il comando del più grande generale che la Spagna abbia mai avuto. Questo. Dall'altro adesso che mentre Cortes aveva sette anni si è scoperto un nuovo continente ci sono delle navi che ogni anno da Siviglia partono e vanno a Cuba e poi solo Dio sa cosa succede. Ora qui ci sono un sacco di domande alcuni dicono che a Salamanca diciamo l'impresa di Colombo fosse già molto famosa perché qua forse non lo sapete molti non lo sanno ma quella spedizione lì la spedizione che abbiamo messo in grafica che sono i Bits per la prossima spedizione ve lo spiego quelli sono i Reales spesi dalla Spagna per la spedizione di Magellano si parla di 8 milioni di Maravedis 8 milioni Colombo per fare la sua spedizione spende 4 milioni di Maravedis sono qualcosa come un milione e mezzo di euro circa attualmente di cui metà li mette la corona l'altra metà li mettono dei banchieri o comunque dei privati e tra questi privati l'università di Salamanca nel 1485 finanzia la spedizione di Colombo quindi sette anni prima l'anno in cui no non l'87 nell'87 nel 1487 non nell'85 scusate quindi quando Cortez ha due anni quelli di Salamanca danno i soldi a Colombo dicendo zio sta idea ci piace facciamo il kickstarter ok dacci il pledge facciamo un kickstarter quindi alcuni dicono che Cortez quando va a Salamanca si appassiona diciamo all'America perché comunque l'ambiente era un po' era un po' no fertile questa cosa qua noi non lo sappiamo noi sappiamo che dopo due anni lui torna a casa e dice pa ma vado a fare soldato il padre gli fa no guarda fai la cazzata la madre piange immaginiamo insomma gli dice no no la vita non fa per me io adesso vado a Siviglia lui non sapeva ancora dove sarebbe andato lui va a Siviglia perché le navi che partivano sia per l'Italia che per la Spagna partivano entrambe da Siviglia e vado a Siviglia e vedo che succede e lui fa armi e bagagli e va a Siviglia nel 1504 ok quindi quando lui ha 19 anni immaginatevi ragazzi immaginatevi i vostri 19 anni ok lui ha armi e bagagli è a Siviglia e non sa ancora se andrà a Napoli o se andrà a Cuba ok e qua ci stiamo avvicinando alla chiusura no del prodromo lì e questa è una delle mie parti preferite Cortes lavora per un po' per spagarsi il soggiorno finché decide ragazzi stiamo parlando di una decisione che non solo cambia la vita stiamo parlando di una roba molto importante lui si prende il suo tempo e lavora in alcuni studi come notaio visto che ha fatto i due anni di giurisprudenza fa lo stagista fa lo stagista lo pagavano all'epoca gli stagisti di giurisprudenza venivano pagati e si fa un po' di soldi mentre a un certo punto arriva la notizia un certo Nicolás Deovando sta armando una spedizione per andare a Cuba e sta cercando persone noi non sappiamo esattamente cosa Cortes abbia pensato non sappiamo alla fine cosa l'abbia fatto propendere per questa decisione il fatto sta che lui va alla casa della contrattazione presenta la sua patente quindi presenta un documento in cui si dice che lui è cristiano i suoi sono cristiani i nonni non erano ebrei tutte queste cose qui e si iscrive nella lista dei passeggeri di Nicolás Deovando cosa succede? succede che insomma prese la decisione continua a lavorare finché ovviamente all'epoca l'America appunto era già stata scoperta era stata scoperta da poco stiamo parlando di quando è stata scoperta da 8 8 e 4 12 anni quindi partiva una nave all'anno circa lui mentre è lì 19 anni ragazzi immaginatevi 19 anni devi partire per il mondo cosa succede? incontra una donna una donna di cui noi purtroppo non sappiamo né nome né cognome la storia purtroppo ha sepoltro questi dati che per me invece sarebbero interessantissimi comunque questa donna con cui Cortez ha un attimo un po' diciamo un'intesa particolare ecco c'è solo un problema questa donna è sposata cosa succede? succede che il nostro naturalmente educato da bravo cavaliere nobile no ragazzi se la scopa senza nessun problema va là ci va dentro ok bene quindi c'è questa relazione clandestina tra questa donna di Siviglia e il nostro cortese di 19 anni bene arriva l'ultima notte la notte prima della partenza cosa fai? ti fai l'ultima serata con la tua bella cioè ragazzi stiamo passando cioè andare in America nel 1504 è come se domani uno di voi dice bella zi va a dire su Marte più o meno è quello ok non so ne manco se arrivi ok cosa va? quindi lui dice ragazzi l'ultima l'ultimo intercorso quindi cosa fa? notte notte fonda il nostro cortese essendo un cavaliere ha la possibilità di portare armi perché c'era anche il porto d'armi all'epoca lui poteva quindi con la spada va verso la casa di questa donna sposata questa casa era la tipica casa spagnola Sivigliana quindi con un cortiletto interno la recinzione molto alta in mattoni ok e una volta entrati diciamo nel cortiletto interno si sale sulle mura si va al primo piano e quella è la camera ovviamente la donna sposata ha la camera separata dal marito che non si ha mai succede che il nostro inizia a arrampicarsi sul muretto prima del cortiletto interno arriva dentro sta per scendere quanto guarda un po' il muro crolla sotto il peso del nostro crolla rovinosamente cortes immaginatevi il casino con tanto la spada anche mezza corazza dice che si fosse portato la corazza perché alle donne piaceva l'uniforme non sto scherzando l'ho trovata in un libro di Louis Torres quindi immaginatevi ferro un mottone un casino il marito si sveglia e immaginatevi a letto che fa che cazzo succede tira fuori la spada esce nel cortilio interno vede cortes con la spada anche lui in mano e i due iniziano a duellare cazzo in quel momento esce da un lato l'amorosa l'amante di cortes da un lato e questa è una cosa molto italiana la suocera la suocera che vede la situazione si avventa sul marito furibondo che vuole ammazzare cortes dando il tempo a cortes di scavalcare il muretto e batterne ritirata chiaramente una volta arrivata a casa ricordo che la mattina dopo avrebbe dovuto prendere la nave cortes si rende conto che c'ha la gamba completamente massacrata dal mattoni e dal ferro e che non riesce anzi che zoppica addirittura quindi lì ci sono due possibilità la prima ti imbarchi comunque zoppicando dovendo però spiegare che ti sei ferito cercando di scopare la tipa di un altro oppure e siccome il nostro era un gentleman non dici un cazzo resti a casa finché non guarisci e la nave la prendi l'anno dopo cortes sceglie questa seconda opzione aspettando così la prossima nave e con questa chiosa questa è la puntata 0 del nostro cortes ci rivedremo la prossima volta che non ho idea di quanto sarà con l'arrivo a Cuba effettivamente